Direttamente dalla cameretta magica, benvenuti ad un nuovissimo video. Oggi, 5 di aprile, faremo un video commemorativo in riguardo a Renato Turi. Renato Turi è stato anche lui uno dei più grandi doppiatori italiani e proprio oggi, 5 aprile, sono passati 30 anni dalla sua scomparsa. In ogni caso, in questo mio video, volevo salutare Aprel09 e Giorgio Mozzarellaccia. E poi, volevo augurare a tutti buona Pasquetta. Allora, iniziamo a parlare di Renato Turi. Allora, Renato Turi, in pratica, è stato voce di... È stato voce abituale di Walter Matthau. John Carradine, Christopher Lee, Lee Marvin, Telly Savalas, Livio Lorenz... Livio Lorenzon, Mario Brega, che questi ultimi due erano attori italiani. Poi, ha doppiato occasionalmente Sidney Poitier, attore afroamericano. Woody Strode, sempre attore afroamericano. Charlton Heston, doppiò anche John Wayne per un periodo, perché la sua voce abituale, Emilio Cigoli, andò via dalla CDC e quindi venne dato a Renato Turi per un periodo. Poi, doppiò anche Leslie Nielsen, Robert Ryan, doppiò anche, perfino Orson Welles, Joseph Cotton. Poi, passando all'animazione, doppiò... Gulliver, nei viaggi di Gulliver, Tom Jefferson nel cortometraggio Disney, il mio amico Benjamin, o meglio il mio amico, o anche il mio amico Beniamino, un poliziotto in Lilli e il Vagabondo, Amo, nelle 13 Fatiche di Ercolino, Gaspare, nella Carica di 101, Giulio Cesare, in Asteriz e Cleopatra, e il maggiordomo Edgar negli Aristogatti. Fu anche la voce di Lassù, di... nello spettacolo teatrale Aggiungi un posto a tavola, di Garinè e Giovannini, che gli aggiungi un posto a tavola. C'è anche la canzone di Johnny Torelli, che vi consiglio caldamente di ascoltare e farla anche conoscere ai vostri figli, nipotini e cuginetti che hanno una fascia di età dai cinque anni in su. Poi... fu anche voce narrante, in Cleopatra e Shimu Leggiziano. E poi, vi faccio vedere un'immagine di Renato Turi, che è questo qua, un'immagine di quando era un giovanotto. E comunque, Renato Turi è sepolto nel cimitero monumentale del Verano. Vi dico pure l'ubicazione, per chi di voi vorrebbe andare a renderle omaggio. Zona ampliamento, scaione Q, lunga manica, fila terza, l'oculo numero 15, che comunque in zona ampliamento ci sono sepolti anche molti grandissimi personaggi, tra cui Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi e Rino Gaetano. E poi, vi faccio vedere pure un'anteprima dell'oculo, dove è sepolto Renato Turi, che poi comunque, ci tengo a dire che in zona ampliamento io sono già stato, ma ci tornerò, non solo per rendere omaggio a questo grande doppiatore, ma anche per andare a trovare Sandro Giovannini, perché la volta scorsa ero stato al pincetto vecchio, dove era sepolto Pietro Garinei, dato che Garinei e Giovannini erano un duo, quindi mi sembra più che giusto omaggiare anche Sandro Giovannini. Passiamo, ora vi farò vedere l'oculo dove è ubicato Renato Turi. Eccolo qui. Come qua vedete ci sono sepolti i genitori, mentre il nome suo sta sepolto qua sotto, poi ci sta questo coso che copre la data di nascita e la data di morte. Comunque è un loculo molto semplice, senza neanche la foto e la lampada votiva, però magari sarà stato pure Renato Turi stesso a non volerci la foto. Comunque che dire. Come ho già detto, vi auguro buona Pasquetta e niente, ci vediamo alla prossima. Ah, un'ultima cosa. Iscrivete, vi consiglio caldamente a tutti voi di iscrivervi al mio canale, di iscrivervi al mio canale e niente, ci vediamo alla prossima. Passo e chiudo.